ciao ciao a tutti benvenuti e bentornati sul mio canale come promesso la terza puntata dello swatch palette pupa vamp super carine queste palettine abbiamo swatchato la 006 che era la pupa vamp rosa poi abbiamo swatchato la 003 che era la pupa vamp nera e oggi andiamo a swatchare la 002 che è la pupa vamp rossa super super carine e finalmente andiamo a swatchare la terza di queste palettine la mettiamo qua sotto così ci stanno tutte e tre togliamo la plastichina allora questa è probabilmente la mia preferita senza ombra di dubbio perché c'è il panna e c'era anche in questa il panna qui invece avevamo un bianco ottico e questo mi piace tantissimo questo glitterino ma non è tanto dorato è un colore un pochino più leggero un pochino meno dice noi neanche appariscente però è meno caldo è un dorato meno caldo quindi mi piace di più il mio colore preferito che c'era anche qua molto simile il rosa antico e signore e signori questo che è letteralmente un colore che mi fa impazzire che è un rosa antico glitterino lo adoro è bellissimo guardate che spettacolo e andiamo a fare lo suocino qua così e non è uscito bene direi perché si è sfaldato tutto il colore questo che c'era qua vedete questo qua e ha i colori quelli più metallici devo dire vedete si sfaldano tutti ci vuole un super primer per farli aderire vedete si sfaldano tendono a sbucciarsi tutti quindi io dire vedete si vede proprio guardate qua che si sbuccia non aderisce quindi o si mette un primer stra buono o si rischia di perdere l'ombretto strada facendo e questa non è una cosa bella questa succede spesso aspettate che mi pulisco la mano e arrivo è una cosa che succede spesso con alcune alcuni ombretti vedete quindi ci vuole un primer in crema molto corposo anche a mio avviso per far aderire bene il colore proviamo anche questo qua sono un po delusa che si sia sfaldato così il colore questo come anche nelle altre palette il colore in questa posizione era chiaro bianco non era coprente il rosso sono tutte molto simili questo qua è un color inferno secondo me che ditte perché è un nero col rosso poi quando lo mescolate un colore indefinito un marrone anche parecchio bruttarello a mio avviso poi c'è questo che non mi piace un viola un viola fucsia molto fuori da i miei colori preferiti e questo è un pink che si sfalderà tutto perché c'è dentro quei micro glitter maledetti fatti a foglietta che si staccano tutti proviamo vediamo un po che succede ecco vedete infatti micro glitter maledetti che si sfaldano proviamo a farli aderire ma niente di trascendentale si stanno già sbucciando belle le colorazioni però secondo me come tenuta ai 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 non è che sia proprio la migliore luciamo anche questo marrone caldo molto bello e questo ho già immagino che si mischierà tutto e diventerà uno schifo si sporca tutto proviamo vediamo un po che succede ho già capito vedete si insozza tutto il colore era bianco e si è insozzato tutto vedete è questa cosa ma mi urta un po non mi piace tanto vedere il colore che si diciamo che si sporca era bianco pulito e poi mescolando il colore si è sporcato facciamo lo swatch anche di questi due ultimi niente di particolarmente bello ecco quello che mi piaceva di più era questo e non scrive abbiamo visto che è poco scrivente super leggero come colorazioni devo dire non sono brutti ci avrei visto bene anche un nero o un marrone più scuro perché questo si ce la fai a fare lo mucchi ice ma non è particolarmente scuro ecco non lo so se mi piace se sono delusa fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi ombretti che si scarciofano così voi riuscite ad utilizzarli che primer utilizzate sotto fatemi sapere un po se li avete presi anche voi e come vi trovate sicuramente il più carino quello che trovo più carino io è questo bianco un po trasparente e questo pink questo qua mi ha un po deluso quando l'abbiamo swatchato perché si è scarciofato tutto quindi è un no non è l'alix approver invece questo qua questo pink qua non si sta scarciofando mi piace parecchio bene questo è quanto per il video di oggi qua si concludono le tre puntate dello swatch pupa vamp delle palettine abbiamo fatto la rosa poi la nera e adesso la rossa lasciate un pollicino se questo video vi è piaciuto ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video se non siete già iscritti e commentate facendomi sapere cosa ne pensate di queste palettine mi fa sempre piacere quando commentate sono molto contenta e leggo volentieri tutti i vostri commenti vi mando come sempre un bacio grande 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 e ci vediamo al prossimo video un bacio dalla vostra l'alix ciao